Siamo per le prossime elezioni amministrative a Varese perché pensiamo che nel centro-destra, nel centro-sinistra di Varese abbiano per i cittadini fatto il loro dovere. Li hanno molto trascurati, soprattutto i più bisognosi e soprattutto i lavoratori che perdono il lavoro, le famiglie che purtroppo a causa di molte indigenze magari si separano, hanno delle problematiche familiari che non sono state risolte ma sono molto trascurate, comprese le esigenze che hanno i giovani, le giovani famiglie, gli studenti che non sanno dove andare a dormire quando studiano qui a Varese e soprattutto gli immigrati perché a Varese, malgrado tutto, ci sono diverse centinaia di immigrati che avrebbero bisogno di più aiuti sociali. Avete già completato la lista? Sì, ci manca qualcuno per cercare di essere una lista più partecipativa e più partecipata appunto perché deve rappresentare tutti gli strati sociali della collettività.